Sì, sì, sì. Perché saranno così? Ah, vabbè, quello, se no, scusa. Ci deve essere nessuno. Sì, 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 sì. Sì, sì. Girati, data. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Ho visto di peggio nella vita, come facciamo passare adesso, come facciamo passare? Come facciamo passare adesso, come facciamo passare adesso, come facciamo passare adesso.